Nell'episodio di Terra Amara in onda sabato 6 gennaio, gli spettatori assisteranno a un confronto intenso tra Fekeli e Akan, che continua a nascondersi dietro l'identità di Mehmet. Akan è in compagnia di Kadir, il quale, curioso per il destino di Demir, gli chiede cosa pensi gli sia successo. In risposta, Akan esprime sicurezza nel fatto che Demir non si arrenderà facilmente e tornerà a casa prima o poi. Kadir, tuttavia, ribatte con determinazione, avvertendo Akan che se Demir dovesse tornare, lo affronteranno senza esitazioni. Aggiunge che, prima del suo ritorno, gli toglieranno tutto, terra, lavoro e persino il cuore di sua moglie. Kadir non esita a sottolineare che, nel caso in cui Demir ritardi nel tornare, il matrimonio con Zuleya potrebbe considerarsi nullo, dando così a Akan l'opportunità di sposare la donna che ama. La tensione tra i due uomini si fa sempre più palpabile, creando un'atmosfera carica di suspense e intrighi. Invece di rispondere, Akan decide di abbandonare la scena. Nel frattempo, Fekeli e Lutfai si trovano nella camera dei bambini, dove Fekeli gioca con Adnan. Durante questo momento familiare, Fekeli condivide con Lutfai la convinzione che sia stata una buona decisione portare Iker e Malì nella stessa stanza dei fratelli, così da permettergli di crescere insieme a loro. Tuttavia, Lutfai esprime la necessità di lasciare la villa, sia perché sono ospiti da un periodo considerevole, sia per evitare le mormorazioni sempre più diffuse nel paese riguardo a Fikret e Zuleya. Fekeli tranquillizza la moglie assicurandole che troveranno presto una casa più adatta alle loro esigenze. Nel frattempo, Zuleya condivide i suoi pensieri con Sanye, suggerendo l'idea di organizzare una festa di circoncisione come faceva spesso Unkar. Nonostante i gravi problemi che affrontano, Zuleya sottolinea l'importanza di mantenere i doveri e gli obblighi verso i lavoratori. Inoltre, confida a Sanye la sua forte sensazione che Demir tornerà da loro e la necessità di rimanere forte e preservare le tradizioni affinché lui trovi tutto come l'ha lasciato. Sanye, concordando con l'idea di Zuleya di organizzare la festa della circoncisione, la incoraggia e le promette il suo aiuto. Esprime la volontà di collaborare nell'organizzazione dell'evento. Nel frattempo, in giardino, Fikret condivide le sue preoccupazioni con Cetin riguardo alla visita di Akan a Zuleya. Riferisce di non gradire l'arrivo improvviso di Akan, soprattutto a tarda sera. Cetin, tranquillizzandolo, assicura a Fikret che rimarrà vigilante e controllerà la situazione, garantendo che i bambini siano al sicuro. Cerca di dissipare le preoccupazioni di Fikret, sottolineando chi prenderà le misure necessarie per garantire la sicurezza della villa. Poco dopo, Fikret e Fecheli decidono di ritirarsi a casa propria per evitare pettegolezzi. Zuleya e Sanye, invece, si dirigono al villaggio per comunicare agli abitanti l'intenzione di organizzare la festa della circoncisione. Cetin, sentendosi preoccupato per le voci maligne che circolano nel paese riguardo a Zuleya e Fikret, si reca in cucina da Gulten per confidarsi. Esprime la sua inquietudine sulla situazione e sulla reputazione di Fikret. Gulten cerca di consolarlo, affermando con fiducia che una volta che Demir tornerà, tutte le male lingue cesseranno. Cetin, tuttavia, continua a sottolineare la frustrazione causata dalle insinuazioni negative riguardo a Fikret. Con un tono di dispiacere, Cetin racconta a Gulten quanto Fikret sia una persona buona, di cuore gentile, che si prende cura di tutti e che dedica ogni momento a cercare Demir, senza mai stancarsi. Nonostante ciò, la gente invidiosa alimenta pettegolezzi, suggerendo che Fikret abbia intenzioni non appropriate nei confronti di Zuleya, nonostante lei sia la moglie del fratello. Nel frattempo, quando Zuleya e Sani arrivano al villaggio, vengono accolte con entusiasmo da tutti gli abitanti. Annunciano la futura cerimonia di circoncisione per i bambini, e l'atmosfera si riempie di gratitudine da parte degli abitanti. La notizia della celebrazione diffonde gioia e gratitudine, offrendo una pausa alle controversie e alle male lingue che circondano la vita di Zuleya e Fikret. Successivamente, la donna più anziana del villaggio rivolge a Zuleya parole di conforto e speranza, affermando che Dio la ricompenserà per la sua bontà e che pregheranno costantemente per il ritorno di Demir. Queste parole toccano profondamente Zuleya, che si sente sostenuta dalla comunità in un momento così difficile. Nel frattempo, Akan, attratto dalla bellezza di Zuleya, riflette su tutti i momenti trascorsi con lei sin dal loro primo incontro. La sua mente riporta alla memoria i momenti felici vissuti insieme. D'altro canto, Fikret, una volta assicuratasi che Zuleya sia tornata alla villa in Colume, si ritrova a riflettere sul momento in cui Demir lo ha finalmente riconosciuto come fratello, regalandogli un abbraccio carico di significato. Zuleya stessa, immersa nei suoi pensieri, rievoca con tristezza i bei momenti passati con Demir. Il suo cuore è pervaso da un profondo senso di angoscia mentre si chiede con preoccupazione dove possa trovarsi Demir. Il giorno seguente, Fekeli si trova al circolo in compagnia di alcuni uomini d'affari di Kukurova, i quali gli domandano se sia vero che Mehmet Kara è diventato socio degli Yaman. Fekeli conferma la notizia e spiega che Mehmet ha acquisito il 25% delle azioni vendute da Zuleya. Uno degli uomini esprime il loro scetticismo, affermando di non avere molte informazioni su di lui, eccetto il fatto che proviene dalla città di Sparta. In quel momento, Akan fa il suo ingresso nella sala, annunciandosi al cameriere come Mehmet Kara. Una scia di curiosità e attenzione lo accompagna mentre tutti si avvicinano per salutarlo e presentarsi. Tra le persone presenti c'è anche Fekeli, il quale, al sentir pronunciare il nome di Akan, è colto da una sorpresa palpabile, indugiando prima di stringere la mano al nuovo arrivato. Fekeli, infatti, è colui che ha investito il fratello di Akan in passato. La presenza di Akan suscita l'interesse generale, e le persone presenti sono desiderose di saperne di più su di lui. Gli chiedono quali siano i suoi interessi, e Akan risponde con calma che è principalmente coinvolto nella coltivazione degli agrumi, ma ha acquisito una quota nella holding Yaman. La notizia d'esta ulteriore interesse, e molti suggeriscono che sarebbe benefico se Akan assumesse la direzione della holding in assenza di Demir. Tuttavia, Akan dimostra un atteggiamento riservato rispetto a questa proposta. Contrariamente alle aspettative, afferma che non ritiene necessario prendere le redini dell'azienda, poiché Zuleya, attualmente alla guida, sta svolgendo un lavoro eccellente. La sua risposta suscita sguardi perplessi e ulteriori domande sulla dinamica all'interno della holding e sul futuro degli affari degli Yaman. I presenti elogiano Zuleya, notando la somiglianza con la defunta Unkar. Fekeli, toccato dalla dolce ricordanza della sua amica defunta, si commuove. Akan, che sta osservando la scena attentamente, coglie l'emozione di Fekeli e decide di avvicinarsi. Con rispetto, Akan chiede se Fekeli e Unkar fossero intimi. La risposta di Fekeli è intrisa di affetto mentre condivide che la signora è nel suo cuore e gli ha affidato gli affari degli Yaman. Sottolinea il suo amore sia per Demir che per Zuleya, evidenziando il profondo legame che li unisce. Successivamente, Fekeli invita Akan a cena quella sera, sottolineando che, dato che è arrivato a Kukurova con buone intenzioni, sarebbe un piacere condividere un momento di convivialità. Akan, rispondendo con cortesia, accetta l'invito. La scena riflette una sottile tensione e curiosità riguardo al ruolo di Akan e alle dinamiche che potrebbero svilupparsi tra lui, Fekeli e la famiglia Yaman. Nel frattempo, Kadir è a pranzo con Betul e i due discutono di lavoro. Kadir, interessato alle operazioni dell'azienda Yaman, le chiede dettagli sulla logistica delle consegne. Betul, con competenza, conferma che trasportano direttamente la merce e, con sorprendente memoria, elenca tutti i camion e i macchinari a disposizione dell'azienda. Kadir, colpito dalla sua abilità e dalla sua bellezza, la loda, definendola tanto intelligente quanto affascinante. Poi, con un'idea in mente, le propone di far riparare i camion nella sua officina di riparazioni e di abbandonare la vecchia officina. Betul, tuttavia, esprime la sua preoccupazione riguardo a Erjan, che probabilmente informerebbe Zuleya della situazione. Kadir, con sicurezza, le consiglia di lasciar fare a Erjan. Più tardi, Akan condivide con Kadir i dettagli dell'incontro con Fekeli, prendendolo in giro per la sua emotività riguardo a Unkar. Kadir, invece, si mostra deciso e dichiara che Fekeli non ha compreso che prenderanno tutto da loro. Poi, discutendo di un piano malizioso, suggerisce Akan che, sapendo che Fekeli sarà presente alla cena, possono sabotargli l'auto manomettendo i freni. Akan, acconsentendo con malizia, gli dice di organizzare tutto. Fekeli si trova al circolo, pronto per la cena insieme a Zuleya, Betul e Fikret, il quale esprime il suo fastidio riguardo alla necessità di quell'incontro. Fekeli, con saggezza, risponde che è indispensabile per comprendere se Akan è un uomo onesto, sottolineando l'importanza di parlare apertamente per raggiungere i loro scopi. Poco dopo, fa il suo ingresso Akan, saluta Fekeli e resta affascinato di fronte a Zuleya, che indossa un abito bianco che la fa risplendere. Durante la cena, Akan condivide dettagli della sua vita, dichiarando di provenire da Sparta e possedere una fabbrica di cosmetici. Racconta di avere numerose attività anche a Istanbul, ma il suo interesse principale è la logistica, possedendo un vasto parco di camion. Rivela di aver nutrito l'intenzione di investire a Kukurova da tempo. Successivamente, Fikret riceve una chiamata da Cetine. Al suo ritorno al tavolo, comunica che uno dei magazzini della loro azienda si è allagato, richiedendo il suo immediato intervento per il controllo della situazione. A questo punto, Zuleya condivide che anche loro hanno avuto un problema di allagamento in uno dei loro capannoni. La notizia sorprende Betul, la quale si chiede come Zuleya possa essere a conoscenza di tali dettagli. Zuleya, con calma, spiega che Akan le riferisce tutto ciò che accade nell'azienda, sottolineando la sua conoscenza approfondita della situazione. La serata si sviluppa così tra dialoghi intriganti e rivelazioni che potrebbero influenzare il corso degli affari tra le famiglie coinvolte. Sermin, a presa della cena a cui non è stata invitata, fa un'entrata sorprendente, elegantemente vestita, catturando l'attenzione di tutti. Dopo aver rimproverato Zuleya per non averla aspettata, Sermin si presenta a Akan come Sermin Yaman, la madre di Betul. Poi, con un tono apparentemente amichevole, le comunica che è lieta che Akan abbia acquisito le azioni della loro azienda, aggiungendo che avevano temuto che fosse stato Akan Gumusoglu a farlo. Akan, fingendo di non sapere chi sia quest'ultimo, chiede spiegazioni, dando inizio a una serie di rivelazioni. Sermin, senza mezzi termini, racconta che Akan Gumusoglu è l'uomo che ha assaltato la loro villa, cercando di ucciderli tutti. Betul cerca di interromperla, ma Sermin prosegue imbarazzando gli altri commensali. Akan, intrigato, inizia a porre ulteriori domande, suscitando ancora più curiosità. Ficheli, notando l'interesse di Akan, inizia a riferirgli che quell'uomo e Demir avevano una società insieme 15 anni prima. Gettando così luce su una storia intricata che collega il passato di Demir al presente di Akan e Betul, Sermin interrompe bruscamente, insistendo sul racconto della storia. Rivela che Demir aveva investito tutti i suoi soldi in quella società, mentre l'altro individuo coinvolto non possedeva nemmeno un centesimo. Unkar, la madre di Betul, non voleva che suo figlio collaborasse con un ragazzo con cui aveva condiviso la casa all'università. Demir, fidando la gestione dell'azienda a quest'uomo che si rivelò incapace, ha subito le conseguenze della sua scelta, con la società che è fallita e con conseguenze devastanti per tutti. Akan, nonostante la gravità delle affermazioni, reagisce con una risata, cercando di minimizzare la situazione e giustificarsi. Nel frattempo, Fikret, dopo aver esaminato i danni al capannone, condivide con Cetin il suo scetticismo nei confronti di Mehmet. Ritiene strano che, dopo aver cercato a lungo un acquirente per le azioni, si è immerso Mehmet, investendo in numerose attività a Kukurova. Cetin, riportando quanto appreso da Bulten, informa Fikret che Mehmet ha conferito a Zuleya il diritto di firma al suo posto. Fikret esprime la sua preoccupazione riguardo a questa decisione, definendola molto strana, e dichiara di non fidarsi delle presunte buone intenzioni di Mehmet. Intanto, durante la cena, Sermin continua a parlare in modo inarrestabile, ignorando l'imbarazzo dei presenti. Rivela che Akan aveva inviato il fratello lì per uccidere Demir, ma l'incidente si era risolto con l'investimento accidentale da parte di Fekeli. Il ricordo di quell'evento scuote Fekeli, che afferma di portare quel dolore nel suo cuore costantemente, tormentato dal rimorso. Esprime il desiderio di aver potuto sacrificare la sua vita al posto di quel giovane uomo. Fekeli continua il racconto, spiegando che, dopo l'incidente, aveva chiesto a Fikret di andare a Ismir dal fratello per chiedere come potesse riparare al danno. Tuttavia, avevano scoperto che il fratello aveva lasciato la Turchia. Successivamente, Fekeli rivela di essersi consegnato alla giustizia e di essere in attesa della decisione del giudice, dichiarandosi pronto ad affrontare la prigione. Pieno di rimorso, confida che se dovesse incontrare il fratello e questi volesse ucciderlo, è disposto a morire per espiare la sua colpa. Nonostante l'incidente sia avvenuto per caso, la coscienza di Fekeli è tormentata dai sensi di colpa. Le parole di Fekeli colpiscono profondamente Akan, tanto che, visibilmente turbato, si alza dal tavolo e si allontana con una scusa. La situazione nella sala da pranzo è tesa, con le rivelazioni di Sermine e le confessioni di Fekeli che hanno scosso profondamente tutti i presenti. L'anticipazione per oggi è terminata. Se il video ha catturato la vostra attenzione, lasciandovi ansiosi di vedere come si evolverà questa complessa trama e come i personaggi affronteranno le sfide che il destino ha loro riservato, iscrivetevi al canale così da non perdere il prossimo video. Grazie, a presto.